San Michele, che è un angelo, comunque è un protettore per altri verso l'Oriente, lo chiamano il re del mondo, è questa figura che in realtà fa un po' da tramite e fa in modo che le cose vadano in una certa maniera, quindi se ci sono degli sbalzi, come stiamo vivendo in questo periodo, prova a riequilibrare. Ti faccio un esempio, Giovanna d'Arco si mormora che lei avesse queste visioni che l'hanno portata a fare questa carriera politica militare grandissima, lei era una donna, una ragazzina che nasceva dai campi, però che ha avuto delle visioni, era in contatto con San Michele, ha creato delle informazioni. Allora, parliamo un po' di San Michele, vorrei che parlessi un po' di questo, per me ci ricolleghiamo al discorso di Giovanna d'Arco. Sì, San Michele già lo ritroviamo nelle Sacre Scritture che dicono, e iniziò una guerra nel cielo, San Michele combatteva coi suoi angeli, quindi San Michele, come giustamente hai detto tu, Riccardo è un protettore, anzi diciamo che possiamo chiamarlo come il luogotenente di Cristo, quindi lui è il capo delle milizie angeliche. Queste milizie angeliche che Cristo cita quando ammonisce Pietro che taglia l'orecchio di Malco nell'orto del Gesemmari, Gesù gli dice Pietro, ma se io volessi chiedo al Padre mio e mi dà più di dodici legioni di angeli che mi libererebbero. Quindi, siccome Cristo curiosamente usa un termine romano, usa il termine militare dell'invasore per definire che lui è anche un capo militare, e quindi usa il termine legione. Quindi Michele, diciamo così, è il luogotenente, il reggente, il comandante di queste legioni. Oggi nel mondo, diciamo così, ufologico è conosciuto col nome di Astar Sheran, che però non è un nome, è un titolo, vuol dire capo santo. I capi santi sono i sette arcangeli, quindi Michele, Raffaele, Geudiele, Sealtiele, eccetera, sono sette capi santi che hanno dei compiti specifici nell'ambito delle strutture organizzative di questi esseri, ma il capo dei sette è Michele e la figura di Michele è proprio quella del protettore, perché è il capo delle milizie celestiche che deve lottare contro le schiere demoniache. Quindi in questo tempo la sua presenza attraverso una miriade enorme di messaggi, voglio ricordare solo l'esperienza del Circolo Medianico della Pace di Berlino, che ha pubblicato una serie di libretti che noi abbiamo riproposto anche in lingua italiana, qui in Italia, ma già esistevano da altre persone che l'avevano fatto prima, altre associazioni, associazioni, una serie di messaggi straordinari, bellissimi, dove questo essere analizza i problemi della società, dà delle soluzioni e delle considerazioni e delle analisi davvero approfondite che sono utilissime anche per chi vuole capire come funziona il potere, ma anche come funziona l'essere umano, il popolo in relazione al potere. Quindi il mio padre spirituale ricevette molti messaggi da questo essere e successivamente Giorgio Bongiovanni, che ha portato avanti questo tipo di situazione, lo stesso ha ricevuto molti messaggi dall'Arcangelo Michele. Tra l'altro ce n'è uno che riguarda proprio il tema di questo incontro, di questa trasmissione che stiamo facendo, Riccardo, l'ha ricevuto Giorgio nel 2010, dove l'Arcangelo Michele rivela che l'Anticristo è incarnato e in questo momento è lui che governa il mondo. Cioè, noi pensiamo di essere in una democrazia, invece tutto il pianeta è governato da questo signore che dovrebbe avere una cinquantina d'anni, che comanda tutto. E questo riverbere le parole della Madonna di Fatima, Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose.